Domenica 18 marzo 2018, 77 giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La chiesa ricorda San Salvatore e San Cirillo. È la quinta domenica di Quaresima. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Salvatore e Cirillo. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Basile. Deriva dal nome proprio Basilio, un tempo molto diffuso. È un cognome panitaliano, ovvero è diffuso in modo omogeneo nelle diverse regioni. La variante Basili presenta nuclei significativi soprattutto al centro, tra il Lazio, l'Umbria e le Marche. Mentre Basezzi, Basez e Baseggio sono tipiche delle Venezie. Accadde oggi. Il 18 marzo del 1964 viene aperto al traffico il traforo del Gran San Bernardo. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo il ciclista Costante Girardengo, nato a Novi Ligure il 18 marzo 1893. La citazione da ricordare. Meglio aggiungere vita ai giorni, che non giorni alla vita. Rita Levi Montalcini. Dice il saggio. L'uomo generoso deve mangiare, se vuole continuare ad esserlo. Proverbio egiziano. Un consiglio al giorno. Avete labbra screpolate? Passateci sopra del miele. Il glucosio contenuto nel miele e più in generale il glucosio ad alte concentrazioni, ha infatti un efficace effetto riparatore della pelle.